So benissimo, so benissimo che il Festival di Sanremo è finito, ma ci sono gli strasci, come dico sempre io, no? E allora sì, è finito da una settimanella circa, ma si continua sempre a parlare di Amadeus e di quanto è successo durante tutte le cinque serate della Kermess musicale più famosa del nostro bel poese. Allora, sono tanti gli strasci che veramente sono legati al Festival, infatti polemiche di qua, polemiche di là, sono stati praticamente all'ordine del giorno e per questo motivo ne abbiamo raccontate di cotte di crude proprio tutti i giorni. Basti pensare che si è vociferato anche di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, insomma i Ferragnias, in seguito al bacio ricevuto dal rapper milanese da Rosa Chemical. Ma ora è Claudio Baioni ad essere entrato a gamba tesa sul direttore artistico, insomma anche Claudio Baioni è pronto a far notizia. Quindi il post Sanremo 2023 è ancora ricco di polemiche. Amadeus è stato indirettamente attaccato da Claudio Baioni, che non ha affatto gradito alcune scelte operate dal conduttore televisivo. In particolare, l'amatissimo cantante italiano ha deciso di intervenire durante il TG1 e qui si è soffermato sulla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E ha subito sottolineato ciò che non gli è andato giù. Vediamo insieme cosa ha dichiarato nelle ultime ore l'artista. Parole destinate a far discutere per giorni quelle di Baglioni, che ha dunque puntato il dito contro l'organizzazione di Sanremo 2023 e quindi ha messo in discussione il lavoro di Amadeus, che però ha ottenuto dei riscontri eccezionali da parte del pubblico. Nonostante non abbia mai parlato esplicitamente del conduttore dei soliti ignoti, inevitabilmente i telespettatori si sono resi conto che si trattasse di una critica indirizzata ad Amadeus Sebastiani, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni in risposta a lui. Quindi, entrando nei dettagli, Claudio Baglioni ha esclamato al TG1 probabilmente in certe occasioni le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema e di opere letterarie. E subito dopo le dichiarazioni del cantante sono apparse le prime reazioni dal mondo del web, che non sono state proprio molto carine nei confronti dell'ex direttore artistico di Sanremo. Ecco come hanno reagito alcuni internauti alle parole di Baglioni. Ah, io comunque dei due Sanremo di Baglioni non ricordo un cantante, una canzone oltre i podi. Credo sia sufficiente, Claudio Baglioni critica il festival, ma quando lo ha presentato lui erano tre ore di autoconcerto e un'ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace?